Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, ha espresso dure critiche nei confronti del reality show. In un'intervista rilasciata a Radio Radio, Plevani ha dichiarato che avrebbe chiuso il programma anni fa, sottolineando che non ci sono più le regole della prima edizione, come l'assenza di acqua calda, l'ora limitata per lavarsi, l'assenza di lavatrici e le prove settimanali per guadagnarsi da mangiare. Secondo Plevani, ora i concorrenti devono litigare per risultare simpatici, ha anche criticato l'attuale conduttore del reality, Alfonso Signorini, affermando di non apprezzarlo come presentatore. Infine, ha espresso speranze per la neo-opinionista Cesara Buonamici, augurando che guardi il Grande Fratello. La storica vincitrice del Grande Fratello, tra i concorrenti più amati del reality a distanza di 23 anni dalla sua vittoria, ha rivolto delle severe critiche nei confronti del programma nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Radio alla trasmissione, non succederà più. L'ex Geffina ha dichiarato che avrebbe messo fine al reality già anni fa, se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. La vincitrice della prima edizione del GF ha affermato che non ha più senso di mandare in onda un programma di questo tipo, però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Non ci sono più le regole della prima edizione. Niente acqua calda, solo un'ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica. La storica prima vincitrice del reality ha detto qualcosa anche su Alfonso Signorini. Come presentatore a me non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no, inoltre la Plevani si è espressa anche sulla prossima opinionista Cesara Buonamici affermando, è un'opinionista diversa dalle precedenti. Speriamo che guardi il Grande Fratello.